E' di nuovo l'apoteosi in casa interista. La gioia è incontenibile, nulla sembra poter fermare questa squadra mitica i cui giocatori sono nel cuore di tutti i tifosi italiani. La grande Inter è entrata nella storia come poche altre squadre. Almeno mi dicono che nella storia del calcio italiano ci siano solo due squadre che sono considerate grandi, grande Inter, grande Torino, così mi dicono. Ma credo sia dovuto al fatto che in quei 5-6 anni quell'Inter ha vinto tutto quello che poteva vincere. Ha vinto tre scudetti, forse potevano essere anche di più. Ha vinto due coppe dei campioni, una l'ha persa in finale, ha vinto due coppe intercontinentali. Quindi vincere tutto questo in 5 anni vuol dire essere veramente i più forti del mondo. Sarti, Guarneri, Burnic, Facchetti, Bedin, Picchi, Tagnin, Suarez, Mazzola, Corso, Domenghini, Jair, Moratti ed Herrera sono gli idoli incontrastati del popolo nerazzurro, i fantastici protagonisti di un sogno lungo un'eternità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.